Ciao a tutti! Oggi in questo video vi mostrerò come, partendo dalle carote del supermercato e più precisamente dal ceppo, quello che noi durante la pulizia normalmente butteremo, quindi praticamente a costo zero, con delle piccole accortezze le si possa fare generare una piantina e delle radici incredibili. E se messe all'interno di un terreno, casomai anche semplicemente in un vaso, si potranno ottenere dei raccolti davvero incredibili, come quello che vi sto mostrando, questo per intenderci. Quindi io vi consiglio di seguire il video e provare a rifare ciò che vi mostrerò, perché sono quasi certo che se lo farete i risultati vi daranno davvero delle grandi soddisfazioni. Quindi la prossima volta che comprerete delle carote, quando le pulirete, fate in questo modo. Innanzitutto scegliete quelle sane che non presentino tracce di funghi, muffe o batteri. Trovate le carote, non resta altro che pulirle, mangiarsele e con gli scarti andare avanti con l'esperimento. La parte che utilizzeremo nelle carote non sarà quella inferiore dove c'è la punta, ma quella superiore dove c'è questo occhiello. Quindi semplicemente a prendere il coltello e partendo dall'alto con un taglio netto e perpendicolare rispetto all'asse, considerate che questa è l'asse, noi dovremmo andare a tagliare con il coltello in questa maniera. Quindi semplicemente appoggiarci casomai, in questo caso un piatto, e taglio netto. E questo è ciò che abbiamo ottenuto dal taglio, quindi sarà proprio con lui che andremo avanti con l'esperimento. Se ce la fate, tagliate più carote contemporaneamente, in questo modo aumenterete decisamente la possibilità poi di ottenere il risultato sperato. E per questo esperimento io ne utilizzerò ben sette. Quindi a questo punto procurarsi un contenitore, anche un piatto fondo andrà benissimo, ed inserire i ceppi all'interno. Così. Ottimizzate gli spazi. E una volta messi all'interno, prendere un po' d'acqua ed andare a versarla sul fondo del piatto, in modo che ce ne sia almeno un centimetro, e che l'acqua vada a bagnare la parte inferiore dei ceppi, e posizionare il tutto in un punto dove prenda molta luce, ma non irraggire il sole diretti. Una cosa davvero importante, anzi direi tassativa, e che sino a che loro saranno all'interno del piatto, l'acqua sul fondo ci sia sempre e soprattutto che sia pulita. Se si dovesse sporcare, mi raccomando, cambiatela subito, perché sennò ci sarebbe il pericolo che all'interno si potrebbero formare funghi, muffe o batteri che potrebbero essere davvero pericolosi per le piantine che si formeranno. Trascorsi soltanto dieci giorni, riprendendo il tutto si può notare che all'apice qualcosa è già nato, ci sono dei germogli che sono le future foglioline della pianta, e andate a guardare alla base, anche le radici sono già nate, sono davvero piccoline, però il fatto che siano spuntate è davvero un ottimo segno. E considerate che una volta che le piantine inizieranno a germinare, poi la loro crescita sarà a livello esponenziale, infatti dopo soltanto cinque giorni dalle ultime riprese, guardate un po' come le foglioline siano cresciute, sono letteralmente esplose, e la stessa cosa vale anche per le radici, che adesso sono molto di più e molto più lunghe. Arrivati al quarantesimo giorno, questo è ciò che si è ottenuto, tutte le carote all'apice hanno sviluppato delle foglioline davvero incredibili e alla base delle radici assolutamente perfette. A fronte dei risultati ottenuti si può traspostare senza problemi l'oro all'interno di un vasetto con del terreno. Ed eccolo qua, ve lo mostro meglio, quindi nella parte superiore una piantina che si sta sviluppando in una maniera assolutamente perfetta, guardate un po', e nella parte inferiore le radici. Devo dire, un risultato davvero incredibile. Quindi procurarsi un vaso, in questo caso ne ho trovato uno di 30 cm e riempito con del terriccio sofficio e universale, non resta altro che andare ad inserire proprio l'oro, quindi prenderle ed andarle ad interrare in modo che ne rimanga fuori soltanto un centimetro e mezzo, più o meno. In questa maniera fare un foro e questo è il risultato che dovresti ottenere. Dopodiché rinzaffare il terreno tutto intorno. E ripetere la stessa operazione per tutti gli altri ceppi. Considerate che in questo vaso ne metteremo 5. E questo è il risultato finale, quindi non resta altro che prendere un vaporizzatore e bagnare il tutto molto abbondantemente. Terminato di bagnare, questo è ciò che si è ottenuto. Un ottimo punto di partenza dal quale sperare poi di ottenere delle giovani piantine e delle carote nuove. Col passare dei giorni le piantine crescono sempre di più, adesso saranno alte più o meno 30 cm ed andando alla base si potrà notare che queste stanno diventando sempre più spesse e grandi. Cambio inquadratura per mostrarvi meglio come appaiano alla base. Direi che sono assolutamente delle piantine perfette. E quando la pianta sarà adulta, se tutto andrà come si spera, proprio nel centro inizierà a produrre anche dei fiori che sono esteticamente davvero molto belli. Potrebbero raggiungere altezze imponenti, si parla addirittura di circa un metro. Quando i fiori saranno completamente secchi si potranno raccogliere dalla pianta ed estrarre i semi da questi è davvero molto semplice. Basterà semplicemente sminuzzarli in questa maniera. E qui ci saranno i semi che si potranno utilizzare per le semine successive. Alla fine del raccolto questo è il risultato che si ha ottenuto. Sono davvero tantissimi semi che si potranno utilizzare quando più ci aggraderà. Primo risultato dell'esperimento. Quando le piantine avranno terminato il loro ciclo vitale tenderanno a seccare e a quel punto si potrà raccogliere il tutto e verificare se nel pane radicale qualcosa sia nato. Quindi se si è formata una nuova carota. Quindi basterà fare in questo modo semplicemente andare e tirare via. E direi che di carote qui non se ne sono formate. In realtà cosa è successo? Praticamente ha fatto crescere una piantina ma poi nella parte inferiore la carota non si è sviluppata. Proviamo con le altre. Quindi semplicemente andare a tirare via ciò che abbiamo fatto nascere. E anche in questo caso la carota non è nata. Continuando a tirare via ciò che è stato che è nato comunque all'interno del terreno si può notare che veramente nessuna delle carote che abbiamo messo o comunque degli scarti delle carote ha generato nulla che possa essere paragonabile a una carota. Tirando fuori l'ultima il risultato è identico alle quattro precedenti. All'interno del pane radicale la carota non si è sviluppata. Quindi a fronte dei risultati ottenuti quantomeno si può affermare che quando vi dicono che mettendo un ceppo all'interno del terreno la carota si rigenera è assolutamente falso. Però questo non significa affatto che da un ceppo di carota non si possa poi ottenere un raccolto davvero abbondante. E adesso vi mostro quale sia il reale metodo per poterci riuscire. Risultato finale un raccolto abbondante. Ottenuti i semi si potrà procedere con la messa in dimora degli stessi nel terreno. Considerate che una carota per crescere e svilupparsi in maniera corretta e diventare grande ha bisogno di crescere a distanza delle altre di almeno 10 centimetri. Quindi in un vaso come questo di 30 centimetri di diametro ne potremo fare crescere al massimo 5. Quindi create 5 punti 1, 2, 3, 4 e 5 e in questi andate a mettere i semi. Mettetene 4 o 5 per punto. Se ne cadono qualcuno in più non succede nulla. Poi quando cresceranno però ne dovrete tenere soltanto una per ogni punto in modo che quella poi si sviluppi in maniera corretta. Dopodiché coprire leggermente i semi semplicemente smuovendo il terreno in modo che non vadano troppo sotto il filo del terreno e bagnare il tutto molto abbondantemente. Trascorsi soltanto 5 giorni riprendendo il tutto questo è il risultato. Quindi delle piantine che sono nate davvero molto in fretta e adesso sono alti addirittura un centimetro. E quando le piccole piantine inizieranno a crescere occorrerà spostarle e in un vaso come queste al massimo ne potranno rimanere soltanto 5. Se non le sposterete le piantine cresceranno ma rimarranno davvero piccine. In questo modo invece avranno tutto lo spazio necessario per potersi sviluppare. Col passare dei giorni le piante crescono sempre di più e vi mostro come si sviluppano le carote all'interno del terreno. Voi questa operazione non la dovrete fare è semplicemente per farvi vedere che tutto effettivamente sta procedendo nel migliore dei modi. Guardate un po' andando semplicemente a muovere il terreno che cosa c'è all'interno. Le carote sono ancora piccine ma già si intravede esattamente ciò che poi si andrà a raccogliere. Trascorsi due mesi questo è il risultato delle piante alte più o meno 40 cm. Trascorsi un paio di mesi dalla semina questo è ciò che si è ottenuto, delle carote che si sono sviluppate perfettamente. Andiamo a vedere tirandole fuori dal terreno come si siano sviluppate. Quindi semplicemente proviamo a tirarle fuori. Ecco qua. E guardate un po' tirando fuori quello che c'è all'interno del terreno che cosa si sia ottenuto. È un raccolto davvero abbondante. Alla fine dell'esperimento questo è il risultato. Decisamente diverso da ciò che erano le aspettative iniziali ma di gran lunga superiore. Proprio perché se si dovessero seminare tutti i semini ottenuti non si otterrebbe soltanto una carota ma bensì migliaia. Questo però non toglie il fatto che nonostante tutto il fatto che vi dicano che da uno scarto come questo poi si rigeneri una carota sia assolutamente falso. E con questo il video si conclude. Spero che vi sia servito e che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mi raccomando lasciate un commento, mettete un mi piace ma soprattutto iscrivetevi al canale e già che ci siete dategli un'occhiata perché sono sicuro che qualcosa di carino all'interno riuscirete a trovarlo. In più vi chiedo un'altra cortesia. Se potete condividete questi video sui social perché così facendo mi aiuterete anche a farlo crescere il canale. Detto questo ringraziandovi in anticipo vi saluto e vi aspetto al prossimo video.